un tentativo di riflessione sulla pandemensa cos'è accaduto da un punto di vista individuale e sociale nel 2020 e cosa accadrà ancora? il primo e più strabiliante effetto dell'anno di inizio della pandemensa è stato che gli individui dotati di buonsenso si sono svegliati in un mondo che non voleva più ragionare la follia delle folle si è d'un tratto impadronita dalle menti di colleghi, amici o estranei che improvvisamente hanno ritenuto di poter ammonire o insultare chi non portava un pezzo di pezza sul viso per obbedire agli sciamani della televisione, denunciare i vicini di casa, affiggere avvisi delatori nei condomini, impedire l'accesso a luoghi pubblici, sanitari o di trasporto e tanto altro si è assistito ad una vergognosa caccia alle streghe contro chi poneva delle domande o provava ad indurre alla calma e dal ragionamento. Politici e bellimbusti televisivi si sono lanciati in dichiarazioni indegne di una società civile contro coloro i quali si rifiutavano di piegarsi ai veleni della paura con cui veniva irrorata la società attraverso mass media indecenti oltre ogni limite. Scienziati di primo ordine come il professor Gionio Anidis, il Nobel Luc Montagnier o gli autori della Great Barrington Declaration sono stati messi alla berlina, insultati da mezze tacche, calugnati, mentre Gentucola che ignora persino l'ortografia elementare è stata messa sul pulpito televisivo a raccontare frottole talmente grandi da far impallidire qualsivoglia leader di culti estremi. La scienza è stata fatta passare per fideismo e trasformata in una pseudoscienza, la scienzia televisiva, povera di logica e di ragioni. Mai, come nel periodo della pandemenza, si è potuto assistere così palesemente al carattere profondamente deleterio che i media hanno ormai sulla socialità. La pseudoscienza, veicolata dal piccolo scherbo, è piaciuta alle folle scalbanate perché questa appare facile da assimilare, semplicistica fino all'assurdo e soprattutto talmente fideistica da porla al pari con un qualsivoglia culto sorto da un umido scantinato di Brooklyn. Credi nella scienza, ripetevano le voci gracchianti dei guru mediatici e dei politicastri loro complici. Solo quelli che si mantenevano saldi alla ragione sapevano che nella scienza non c'è proprio niente da credere. È come se uno dicesse, credi che nel conto corrente ci sono 10.000 euro. Cosa c'è da credere? Gli euro o ci sono o non ci sono. All'infezione da coronavirus il 2020 ha reagito con l'antiscienza al posto della scienza. Il ventunesimo secolo, un evo tenebroso e tremendo, che ama però definire se stesso come epoca della conoscenza, ha palesato livelli di esaltazione irrazionale, di menzogna e di squallore intellettuale che hanno rari paralleli storici. Le folle, come già avvenuto in altre epoche buie, si sono gettate estasiate tra le braccia di demagoghi di mezza tacca e prestidigitatori a pagamento. Dalle parole le folle sono poi passate ai fatti, lasciandosi inoculare a capo chino sostanze non sufficientemente testate per i loro effetti collaterali ed il tutto in nome della scienza. Ora ne pagano le conseguenze che paradossalmente si rifiutano di riconoscere, come se chiudere gli occhi di fronte alla realtà potesse influenzarla oppure evitarla. Quanto è accaduto necessita una riflessione che in accordo con l'epoca non sta avvenendo. Coloro che hanno perpetrato questa assurda beffa nascondono adesso la mano che ha gettato il sasso, fingono di aver dimenticato, minimizzano o negano apertamente la realtà di quanto è avvenuto e gli effetti che il delirio della pandemenza ha provocato e continua a produrre. La mortalità in eccesso, le conseguenze sull'economia e sulla socialità vengono fatte passare peraltro da ciò che sono. Da una parte si parla di un immaginario long covid, dall'altra è tutta colpa di Putin, come se l'euro non si stampasse a mosca. Per chi non lo sapesse l'inflazione è determinata dalla crescita rapida della quantità di valuta circolante rispetto alla produzione, di cui l'aumento dei prezzi è solo una tra le conseguenze. L'inflazione può però venire facilmente utilizzata dalla politica come un metodo di espropriazione economica e di riduzione del debito di Stato, un sistema già adoperato in epoca romana che portò al collasso del sesterzio nel IV secolo e poi dell'impero stesso. La Repubblica italiana è stata cancellata nello Stato, il quale a sua volta ha smarrito la separazione costituzionale dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che dovrebbero tenere a freno le sue parti, impedendo la prevaricazione sul diritto attraverso il monopolio della forza. Tutto sembra sia stato dimenticato. La magistratura e le corti superiori sono diventate esecutrici politiche non più garanti dell'applicazione delle leggi, nullificando la funzione di controllo che ognuna di queste dovrebbe esercitare e mantenere tanto sull'esecutivo quanto sul legislativo. Le sentenze della Corte Costituzionale presieduta dalla signora Sciarra sono un esempio a futura memoria della cancellazione della funzione di controllo tra giudiziario ed esecutivo e della chiacchiera politica che trionfa sui fatti, la ragione e la scienza. Il Parlamento è poi stato assoggettato dai partiti e la Costituzione è diventata una mera carta di suggerimenti sottoposti agli editti del capo del governo, altrimenti il signor Conte non avrebbe potuto firmare decreti capaci di cancellare libertà costituzionalmente garantite, mettendo praticamente un'intera popolazione agli arresti domiciliani. Del cosiddetto quarto potere è meglio non discuterne, poiché l'informazione oggettiva ed indipendente è in questo momento storico un mero retaggio del passato. Tutto quello che passa tra gazzette e televisioni è sempre il prodotto di una narrativa oppure filtrato da questa. Anche su internet che durante la pandemenza è stata un veicolo fondamentale di dati ed informazioni, questa politica comincia lentamente a mettere le mani e tra pochi anni la rete verrà sottoposta sempre più a normative illiberali e contrari alla libertà di parola. Già durante la pandemenza si è visto un utilizzo della censura online che non si era mai conosciuto prima. I cittadini sono stati ingannati, malignamente raggirati, ma hanno ugualmente continuato e continuano ad obbedire. Gli anni che si sono succeduti al 2020 non hanno segnato, come era prevedibile, la fine dell'impazzimento collettivo che è semplicemente tornato ad assopirsi sotto le ceneri. Del resto, se una popolazione è capace di perdere il senno così come è avvenuto nel 2020, il malessere deve essere ben più profondo del mero sintomo. La situazione corrente, la quale può apparire solo come un problema politico, sta ormai rosicando quel poco di autocoscienza che era rimasta all'individuo nel moderno. E anzi, attraverso una spaventosa falsificazione della realtà che il cittadino viene messo in ginocchio e condotto ad una passività e gregariato che finiscono con il coincidere con l'auto-lesionismo se non con una sorta di demenza passiva rispetto alla realtà, finendo così per dover parlare più che di una dissonanza cognitiva, di una vera e propria dissociazione cognitiva. Il nostro bisogno di tornare ai fatti, ad una comunicazione onesta e alla razionalità, è al momento disperato. La pandemenza, più che essere un momento episodico, rappresenta invece una gravissima svolta nella storia contemporanea. Dal 2020 le classi dominanti ripetono a pappagallo di una nuova normalità. La pandemenza è stata infatti solo l'ouverture a cui hanno già fatto seguito una guerra sul suolo europeo in Israele e il più orribile pogrom dopo la Shoah, attacchi terroristici navali nell'oceano indiano ed ulteriori massacri come quello di fine marzo 2024 nel teatro di Mosca con oltre 130 morti, oppure il costante stilicidio di accoltellamenti nelle strade d'Europa su cui i media generalisti tacciono. Adesso gli illuminati dell'oscurità parlano di mandare truppe sul suolo ucraino e del tutto con la solita fanfara farsesca dei media unificati. Il momento è pericolosissimo perché la mentalità della pandemenza, ossia obbedienza assoluta alle irrealità proposte dal potere, continua ad accompagnare il cittadino ormai sconfitto, sperduto, incapace d'altro se non di consumo e passività morale, culturale, spirituale. Kant diceva sobriamente che quello che non si vuole imparare attraverso la ragione lo si finisce per imparare attraverso il dolore o il danno, che è poi ancora un ritorno all'antica Grecia in cui si insegnava della sofferenza che porta all'apprendimento. Tapa timata matimata. L'immenso problema è qui che né i greci né Immanuel Kant potevano prevedere che un'arma capace di annientare l'intera specie potesse finire nelle mani di una classe politica o di intere popolazioni che hanno ancora una volta smarrito ogni contatto con il senno e la realtà e vivono, incuranti o ignari, in un mondo falso ed illusorio a misura della loro volontà. È da qui che sorge il nostro disperato bisogno di iniziare a ragionare insieme invece di mettere mano all'ultima clava nucleare dopo la quale non mi sarà più nulla su cui ragionare.